I pechinese sempre pronti loro non devono fare niente loro solo riposano e basta cosa devono fare? e così pronti per tutto allora Hi guys, hi everyone we are in San Benedetto perfetto we are in San Benedetto qui una volta c'era spettacolino qualcosa e basta la storia è finita finito tutto e sì e e we wanna show nightlife nightlife in San Benedetto e sì e we wanna know what different from Giulianova yes dai andiamo amore attention mi piace mi vuoi vedere piccina piccina fontana fontana no Giulio 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 Fontana io voglio solo per qualcosa altro allora che ora sono che ora sono? what time? vediamo 21 29 eh guarda piccola marina e un 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 andiamo ma mi sembra in questo anno credo che in questo anno è molto calmo cosa pensi? amore mio una vita per questo anno e quest'anno voglio aspettare un po' che sia più tardi perché ora è più tardi, poca tempo ma tra un paio di giorni sarà tutto pieno immagino, immagino immagino pensi che è simile per la nuova 23? più o meno più o meno più o meno chi sa chi sa allora va bene, vediamo come sarà se sarà se sarà magari non 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 ma vieni qua Noi possiamo dire che lungo mare è bello Sì Solo Where is nightlife? Ancora non c'è granché nightlife Non aspettare We don't know We don't know where A dopo A dopo Allora Tu taglia questo video Va bene Dopo quantiamo come sarà la musica, nightlife Va bene, facciamo così Facciamo pinta Tu parla di altre cose Altri elementi Scenografia Scenografia è perfetta Perfetta Come posto e mi è piaciuto Perché è molto molto atmosferico Che sotto Sì, tantissimo Che piccolini Ma tu non ricordi delle nostre gelaterie? No Sì, ma tu Fai già così con la marina No, mi ricordo Eee, eee, eee Hai 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 Perché mi ricordava che era vicino Dove siamo entrati Ma invece io non vedo Ehi, guarda, qui maniano Ma niente Ma non capito Ma 들ò Que si fritto Poi Ehi, com書ca ma noi abbiamo già mangiato uno che è davvero Io come meccanico. Ah, sì, sì, ho visto. Eh, sì, eh, sì, eh, sì, guarda che è quasi pieno. Musica del vivo. A dove loro giocano? Giocano. Musica. Musica. Carino un posto. Come? Carino un posto. Un posto molto bello. E' un moracco, un ristorante. Altro posto? Eh sì, le maniano. Robotici. We try. Guardo di lungo a tagliarlije. Guardo Scarichi. Andiamo a pagare, guarda, guarda! Oh, si come que幹an Renata. Andiamo a guardare prima. Andiamo a guardare近 i gasi. Mmmh hmmm, scip�ar 노�ano video. inh Joshi e Antonia. il bicycle bicycle un autobus guarda, hai altri restauranti un che pieno andiamo a vedere che vuoi mangiare? no, solo per vedere hotel parco dei principi oh amore hotel parco dei principi principi 4 stelle